Dopo le imponenti mareggiate dei giorni scorsi che hanno devastato la costa abruzzese, in particolar modo quella terramana, la Regione ha annunciato che chiederà al Governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Una decisione presa a seguito dei sopralluoghi effettuati nelle diverse realtà dal Presidente Vicario Giovanni Lolli e dai tecnici della struttura regionale delle opere marittime. Intanto, in attesa della proclamazione dello stato di calamità naturale, la Regione ha anche annunciato la volontà di procedere con lo stanziamento delle prime risorse da mettere a disposizione dei comuni interessati per circa 2,3 milioni di euro. Importo che in provincia di Teramo verrà utilizzato per interventi a Martinsicuro per 284 mila euro, Albadriatica per 300 mila, Roseto degli Abruzzi per 200 mila euro, Pineto per 500 mila euro e Silvi per 170 mila euro. La Regione ha chiesto lo stato di calamità e noi ringraziamo la Regione intanto per la presenza immediata sui luoghi perché in realtà è stata una mareggiata che ha colpito un po' tutta la costa Adriatica, in particolar modo questa volta la provincia di Teramo. Ieri c'è stata una riunione tra tutti i sindaci convocata al Presidente della provincia in cui abbiamo rifatto un attimo il punto. Ci sono stati sopralluoghi da parte dei tecnici della Regione Abruzzo, ci saranno delle somme urgenze nei prossimi giorni che consentiranno a tutti i comuni di intervenire nell'immediato per ripristinare i singoli luoghi, quindi i singoli tratti della costa e consentire agli operatori di essere operativi da qui a poco più di un mese e per riaffrontare la stragione estiva perché è la cosa più importante adesso e nell'immediato. Ovviamente ci preme anche un ragionamento più generale rispetto alla salvaguardia della costa, coscienti tutti di un ragionamento e di un fattore, un fenomeno più ampio e più importante dei cambiamenti climatici, ma sicuramente bisogna essere pronti rispetto a quella che riguarda la questione dell'erosione della costa. In particolar modo il nostro territorio ha una parte molto critica che è la parte nord, stiamo andando avanti con la progettazione, abbiamo chiesto un maggior aiuto perché i fondi che ci sono stati assegnati, ringraziamo la Regione Abruzzo, però non sono sufficienti, quindi chiediamo un ulteriore aiuto perché altrimenti non saremo in grado di mettere in sicurezza quella zona per il futuro.